Maurizio Cantello, sindacalista che ha condotto le trattative sin dall'inizio, quindi questo è il momento della svolta tanto attesa? Sì, è la svolta tanto attesa nel senso che finalmente siamo arrivati a singolare il rogito tra le due società, o meglio tra la società Bobst e la curatela che sta gestendo il fallimento della Cerutti. Questo significa che di fatto da oggi 30 persone che avevano perso il proprio posto di lavoro saranno assunte dalla multinazionale svizzera. È importante perché effettivamente è una prima risposta rispetto a un percorso che è stato delicato, complicato e che ha avuto momenti anche drammatici. Quando 280 persone perdono il posto di lavoro è evidente che si crea un problema non indifferente sul territorio. Ora si apre un capitolo nuovo, intanto bisognerà continuare, mi auguro, con tutte le forze politiche, con la regione, bisognerà cercare un posto di lavoro a quelle persone che oggi non ce l'hanno ancora. Quindi bisognerà mettere insieme tutte le forze, aprire un tavolo di discussione affinché ci possa essere una tenuta occupazionale e dare una risposta a queste lavoratrici e questi lavoratori. Si tratta di tanti lavoratori, perché se prima erano 280, 30 trovano posti di lavoro. Sì, allora, intanto rimane un problema per tante persone ancora, evidentemente, anche se una buona parte si è già ricollocata in maniera autonoma. Però il numero comunque di disoccupati è ancora importante e quindi bisognerà, ripeto, muoverci in quella direzione. Eravamo rimasti con la multinazionale svizzera che un minuto dopo il rogito e quindi il passaggio delle 30 persone direttamente in Bobst, avremmo iniziato ad affrontare quel capitolo. Quando si perdono 280 posti di lavoro e poi chiaramente si lavora per ricollocarli, non c'è mai una vittoria. Si parla di una sconfitta dal punto di vista sociale, dal punto di vista industriale. La Bobst pensa che potrà aumentare entro breve tempo il numero dei collaboratori dipendenti da 30, magari allargarli a un altro numero più importante? Questo non so dirlo, bisognerebbe chiederlo alla Bobst. Noi gliel'abbiamo chiesto, chiaramente. Noi gliel'abbiamo chiesto di fare tutti gli sforzi possibili affinché si possa dare una risposta dal punto di vista occupazionale. In primis partendo dagli ex lavoratori della Cerutti.